Musica Dottore Gambino, facciamo un po' il punto della situazione dopo Pasqua, adesso siamo anche zona arancione. I controlli continuano con la stessa intensità? I controlli sono sempre frequenti, intensi e soprattutto anche perché, come sapete, per la provincia di Crotone, sebbene sia passata in zona arancione da qualche giorno, abbiamo Cutro che è zona rossa. Quindi ci sono particolari attenzioni su quella comunità e comunque le attività su questo continuano anche perché registriamo sempre più delle situazioni anche determinate verosimilmente dal lungo periodo, ormai è più di un anno che viviamo con la pandemia e quindi magari qualche ed uno non ce la fa più. E' una situazione in cui bisogna intervenire purtroppo anche facendo delle sanzioni. Oltre alle sanzioni ci sono anche notizie di cronaca, di arresti di persone che non conoscono la legalità? Nell'ultimo periodo debbo dare atto che ci sono state molte operazioni da parte della squadra volante nel campo del settore, dello spaccio di sostanze superfacenti di qualsiasi tipo. E devo veramente fare i complimenti al dirigente delle volanti, a tutti gli uomini delle volanti per quello che stanno continuando a fare su questo settore. Ovviamente ciò è possibile perché la questura nel suo insieme, tutto l'apparato mette in campo tutte le forze per poter permettere a questi ragazzi e ragazze di poter operare in piena sintonia con tutti gli altri organismi. Anche altri organismi territoriali. L'altro giorno i carabinieri hanno fatto un'operazione nella zona di Acquabona. Quindi c'è una costanza in questo, cioè un riprendere il territorio, riappropriarsi degli spazi per poter determinare quella che è l'egida della legalità. L'egida della legalità significa anche da parte dei cittadini un maggiore rispetto di quelli che sono le regole? Guardi, io approfitto di questo incontro per ribadire dei concetti e degli appelli, soprattutto sull'uso delle mascherine, sul distanziamento, perché noi non vogliamo assolutamente entrare a gamba tesa, come suol dirsi in linguaggio calcistico. Vogliamo che la gente rispetti le regole perché finché non arriveremo alla completa vaccinazione cosiddetta di gregge non potremo essere sicuri e tranquilli. Quindi bisognerà costantemente rispettare le basilari regole del comune vivere con questo fenomeno della pandemia. Sì, bisogna convivere, bisogna avere le regole, ma dobbiamo dire anche che in questo periodo c'è stato, e c'è un aumento di uso di stupefacenti, di droga in particolar modo dai giovani. E soprattutto tantissime operazioni sono state poste in campo proprio per la droga. Guardi, questa è una provincia che, come hanno anche dimostrato i dati statistici che sono stati forniti nel corso dell'anniversario che si è celebrato sabato, del 169esimo anniversario della Fondazione Polizia di Stato, i reati cosiddetti predatori sono ancora più in discesa, quindi i reati contro il patrimonio, per intendersi, sono ancora più in discesa. Quello che si mantiene alto, che comunque ha portato anche a degli interventi, sono quelli sugli stupefacenti. E su questo settore, sia con le indagini di più largo respiro da parte della squadra mobile e con la direzione di settore antimafia, sia con quelle di più basso profilo, con le operazioni che vengono svolte quotidianamente, dalle pattuglie, in particolar modo da quelle, come ho detto prima, delle volanti, ma con il concorso dell'RPC, del reparto pensione crimine del Prima di Dacosenza, anche gli stessi fatti che portano a denunciare per uso personale, quindi un fatto amministrativo, sono sintomatici della presenza di questo fenomeno, che sicuramente è presente in questo territorio. Questo rispecchia una fragilità dei giovani? Beh, non possiamo dire che sia solo riferito ai giovani, perché sostanzialmente l'uso di droghe non è che è appannaggio solo di un settore. Fragilità? Probabilmente dobbiamo lavorare molto su quelle che sono i buoni principi, i sani principi che debbono essere dati ai ragazzi, anche con gli incontri che, ahimè, come sappiamo, non sono più possibili da circa un anno, gli incontri in diretta, ma possono essere fatti online e su questo stiamo anche lavorando con gli istituti scolastici per ritornare un po' alla cosiddetta normalità, perché l'età compresa tra seconda media, primo, secondo anno del liceo, è quella più critica per noi per intervenire in modo proficuo affinché non cadano in errore i ragazzi. Un altro reato che è molto aumentato è quello della violenza di genere nei confronti delle donne, anche dalle nostre parti? Guardi, noi abbiamo registrato soprattutto una maggiore fiducia nelle forze di polizia e quindi una maggiore fiducia a denunciare, una maggiore possibilità perché i meccanismi che esistono nella normativa statale, con il cosiddetto codice rosso in particolar modo, consente di intervenire in modo abbastanza veloce e certo. Quello su cui si sta lavorando anche, d'intesa con la prefettura, è sul protocollo viola per quanto riguarda le cosiddette case protette, quindi la possibilità di dare a queste donne che magari subiscono delle situazioni antipatiche da parte del proprio conioge, il proprio compagno, per poterle sistemare in situazioni che siano di piena sicurezza. Tutto questo è legato alla pandemia, secondo lei, al fatto di queste ristrettezze che ci sono? Questo un po' è un dato nazionale che è stato registrato qui. Io direi più che altro che la continua nostra presenza, il farsi vedere, il farsi sentire vicini alla gente, che non è una frase fatta, ha portato, io lo noto anche a volte quando arrivano delle denunce anonime, anche quelle sono utili, ha portato a pensare a che le persone abbiano più fiducia nel forse dell'odio. E questo è quello che dico. Probabilmente la nostra costanza su questo, non solo nostro, anche dell'Arme Carabiniera, della Guardia Finanza, la costanza sul territorio, porta ad avere maggiore fiducia in quella che è l'istituzione, che molto spesso viene invece vista come matrigna patrigna, a seconda del sesso che vogliamo dare all'istituzione, e invece in questo caso viene vista come un qualcosa che accompagna un certo percorso del soggetto che subisce la violenza. Tavoli online con le forze dell'ordine, tutte insieme, anche con il prefetto, per avere un controllo del territorio e soprattutto per dare, come lei ben diceva, un'immagine di impegno da parte delle diverse forze dell'ordine a questo territorio. Un territorio che comprende tutto questo, ma anche un territorio che forse ha bisogno di essere tutelato diversamente? Tutelato diversamente non lo so, io quando sono arrivato qui avevo un certo numero di pattuglie che sono aumentate, grazie all'impegno da parte del Dipartimento, da parte del Capo della Polizia Gabrielli, ma anche dall'attuale Capo Lamberto Giannini, di rinviare forze fresche e numerose e qualitativamente valide anche, perché poi abbiamo avuto anche degli innesti importanti, qualitativi, su questo territorio. Lo stesso dicasi credo anche per qualche altra forza di polizia, ma soprattutto tornando al discorso del controllo del territorio, il prefetto, l'attuale prefetto, ha voluto rivedere un po' il piano coordinato di controllo del territorio e proprio in questi giorni è stato risistemato, tenendo conto anche di quelle che sono le vicende connesse ai piani pandemici, perché dobbiamo anche tener conto che finché non avremo finito questo maledetto periodo, dobbiamo coniugare i servizi controllo del territorio generali con quelli connessi al Covid. E la presenza costante che può essere data, noi abbiamo rimpinguato il poliziotto di quartiere, abbiamo ripristinato le volanti con le motociclette in città, questo serve appunto per dare una presenza sul territorio, ma non solo sul territorio cittadino, ma su tutta la provincia, come sapete, io ho sempre detto che sono in questione della provincia di Crotone, quindi laddove è possibile, sui comuni più importanti, come numeri di abitanti, interveniamo anche con gli specifici interventi del reparto di pensione e crimine o del camper. Quali sono i comuni più a rischio? Ovviamente un'attenzione particolare è per i comuni più grossi, quindi stiamo parlando di Isola Caporizzuto, come di Ciron Marina, come di Cutro, come può essere Petiria Policastro, sono quattro comuni più importanti come numero di abitanti, anche perché hanno una tradizione dal punto di vista criminale, anche questa, importante, quindi c'è una maggiore attenzione per questi, ma è tutto il territorio che viene controllato, le attività che spesso vengono svolte, ad esempio, dalla squadra amministrativa, a cui faccio i miei elogi, perché nell'anno passato ha veramente svolto un'incomiabile attività con sequestri e denunce importanti, e su tutto il territorio, e ribadisco il concetto, l'attività di prevenzione e di repressione viene svolta tenendo conto che la questione di Ciron Marina opera su un territorio di 170 mila abitanti, e 27 comuni, e non solo sul capoluogo. Per quanto riguarda i migranti e la baraccopoli dei migranti, mi riferisco a quelli della stazione, le novità poi sono state messe in campo? Beh, su quello anche lì ci sono stati già nel passato, io sono arrivato qui circa tre anni fa, e già c'era questa problematica che è stata affrontata dalle varie autorità di pubblica sicurezza, da ultimo il prefetto ha avviato delle proficue interlocuzioni, anche con la proprietà, perché quelle proprietà delle ferrovie dello Stato e col Comune, ci sono in corso delle importanti novità, soprattutto il numero è sicuramente inferiore rispetto al passato, alcuni sono stati anche sistemati in situazioni migliori, ovviamente ci deve essere una sinergia con gli enti locali e con la proprietà, e non è solo un problema di polizia, ecco questo voglio dire. Quello sicuramente, tenendo conto che più volte insomma anche dalla questura avete provato a farli spostare da lì e hanno detto di no, oggi c'è invece questa volontà di abbandonare quella baraccopoli e di trovare delle soluzioni migliori, e poi ci sono delle strutture che possono ospitare queste persone? Intanto io non parlerò proprio di baraccopoli, è un insediamento che si è venuto a creare nel tempo, ripeto, da alcuni anni, c'è la soluzione, c'è perché alcuni di essi già sono stati collocati grazie all'intervento del Prefetto anche presso strutture diverse e ovviamente c'è bisogno di un afflato comune e i tempi lo consentono perché i numeri lo consentono, perché non ci sono moltissime presenze rispetto al passato, e quindi bisogna sfruttare questa occasione da parte di tutti per ovviare al problema, altrimenti ci ritroveremo da qui a qualche mese con riavere lo stesso problema. Per quanto riguarda il centro CARA, anche lì voi avete il controllo? Il CARA è gestito tramite la Prefettura da un ente esterno che è la Croce Rossa, noi abbiamo la responsabilità dell'ordine di sicurezza pubblica all'interno del CARA come situazioni che non ci sono situazioni particolarmente gravi. Ovviamente oggi, da febbraio dell'anno scorso, vivendo le vicende del Covid, le capienze sono un po' diverse perché bisogna tenere in quarantena i soggetti che arrivano e quindi ovviamente non sono utilizzabili tutti gli spazi come era nel passato. Quindi dobbiamo dire che c'è questa attività di controllo costante in ogni ambito per quanto riguarda il nostro territorio, un territorio che si distingue dagli altri territori per meno reati, per una situazione più tranquilla, o in realtà siamo sullo stesso livello degli altri territori calabresi? Guardi, io non vorrei fare un discorso esclusivamente calabrese. Su tutto il territorio nazionale si sono registrati una diminuzione dei reati in via assoluta. Per quanto riguarda il territorio di cui posso parlare con cognizione di causa, quindi il territorio crotonese, sicuramente queste sinergie che ci sono tra le varie forze di polizia sono ottimali per raggiungere risultati importanti. Le sinergie però non riguardano solo le forze di polizia. Ovviamente ci deve essere la prefettura che fa da capomaglia su questo ed è in dubbio perché istituzionalmente il prefetto svolge questo ruolo. Ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti, della stampa, una stampa sana che vada nella stessa direzione di quelle che sono le attività delle forze di polizia, della magistratura, degli enti locali, della politica, tutti insieme per riuscire... Noi crediamo, io l'ho detto in varie circostanze, io credo a questa possibilità di risollevarsi, di risollevare il territorio per dare una dignità che è giusto che abbia questo territorio perché ha tante peculiarità importanti che possono permettere di svilupparsi. Ovviamente è un afflato comune, parte di tutti quelli che sono la parte sana di questo territorio e ce ne sono. Quindi lei sta dicendo che bisogna fare rete, bisogna avere il coraggio di andare tutti per la stessa strada, per la stessa via? Certo, tutti per la stessa strada. Poi ci possono essere delle... diciamo, ognuno può avere la sua peculiarità o avere anche delle idee diverse. Il confronto poi è importante per questo, un confronto sano. Serve appunto per superare i problemi che ci possono essere. Ci sono cittadini che chiedono di incontrare lei o incontrare altri dirigenti per spiegare magari le situazioni di disagio che vivono? Noi riceviamo... ripeto, sembrerà particolarmente strano, ma da quando mi sono insediato ho visto un'evoluzione in positivo da questo punto di vista. Una maggiore attenzione a quello che facciamo, un interventismo da parte dei cittadini, nel senso che chiedono determinate situazioni, anche a volte con degli iscritti che magari non recano per ovvi motivi, posso comprendere le firme. Una maggiore attenzione a quello che facciamo significa anche che probabilmente stiamo lavorando nella direzione giusta. Dobbiamo essere aiutati in questo, ripeto, perché si possono commettere degli errori di valutazione e quindi porre dei rimedi a questi errori possono provenire queste indicazioni anche dal comune cittadino. Per quanto riguarda i minori, che attenzione c'è da parte della Questura, ma da parte delle Forze dell'Ordine? Noi abbiamo un ufficio specialistico all'interno della divisione anticrimine e nonché della squadra mobile che si occupa dei reati dei minori. Nel recente passato ci sono stati degli episodi che hanno visto autori ragazzi minorenni e su cui già siamo intervenuti anche con forme di aiuto. C'è stato un caso di una ragazza che aveva offeso i poliziotti, poi abbiamo fatto anche un intervento con gli assistenti sociali. Quindi ci sono, le attenzioni sono costanti perché poi il minore di oggi sarà l'uomo, la donna di domani, il futuro dirigente di questa società. Quindi l'attenzione è soprattutto professionalmente capace perché le persone che svolgono quell'attività non sono tante, hanno svolto dei corsi specifici e sono sicuramente capaci di svolgere questo ruolo. Lei fa riferimento anche alle istituzioni politiche e amministrative del nostro territorio. Con queste istituzioni c'è un confronto e una collaborazione o ognuno va per la propria strada? L'afflato è comune chiaramente, quello che ho detto prima, fare rete, fare squadra si fa tutti assieme. Io non potrei fare il questore se non avessi una squadra di funzionari e a loro volta di donne e uomini della Polizia di Stato che lavorano sulla stessa strada. Ovviamente ognuno poi ha le sue idee, però devo dire che in questo territorio non è che abbia trovato delle situazioni tali da poter dire il contrario di quello che mi ha chiesto. Sicuramente c'è un afflato comune da parte di tutti. Per quanto riguarda il personale, quest'ora è stato tutto vaccinato e sono tutti al sicuro? Quelli che hanno aderito sì, perché come sapete la vaccinazione è un fatto volontaristico. Noi credo che siamo arrivati a un 75-80% di personale che ha avuto la prima dose di vaccino. Noi per primo abbiamo fatto l'AstraZeneca e a breve molti dei nostri avranno la seconda dose. Sempre che non cambi qualcosa e sempre che ci sia l'adesione al vaccino. Io personalmente la farò il 20 maggio e sono già d'accordo sul farla. Ovviamente ci sono i pericoli, i timori di quello che sentiamo quotidianamente sulla stampa, ma noi ci dobbiamo attenere alle disposizioni scientifiche e quello fa testo. Un'ultima domanda. Tanti poliziotti giovani, uomini e donne giovani ci sono in questa questura. C'è stato un ricambio? Guardi, io le posso dire questo. Noi oggi abbiamo un'età media di circa 38 anni. Quando sono arrivato l'età media era sui 45 anni, 45-46 anni. Quindi questo sta a significare che sono stati inseriti sicuramente dei giovani. Nell'ultimo arrivo di 28 agenti, il più vecchio aveva 29 anni. Quindi questo è sempre il discorso che ho fatto prima, l'attenzione del Dipartimento nei confronti della Calabria in generale e anche di questa provincia. Il controllo con i video e le telecamere c'è sempre? Il controllo con le telecamere c'è. C'è qualche problema ogni tanto che si crea nella zona industriale, però su questo stiamo lavorando. Anche lì abbiamo fatto col prefetto un tavolo per poter cercare di ovviare determinate problematiche e mappare al meglio, quantomeno, la città capoluogo. E il centro storico in particolare? Anche il centro storico, certamente. Anche il centro storico, certamente.